Marina Salomon, l'impatto delle nuove tecnologie per l'Enterprise 2.0? Secondo me può cambiare la vita della gente, non ti parlerò in chiame tecnologica strettamente, che è la mia competenza, ti dico che per esempio, così come io ho imparato a gestire tante aziende facendo le mail di notte, addormentando i bambini intorno, che dicono ora mamma con la lucina fa le mail, al posto della fiaba della buona notte ci sono le mail, ma ci ha permesso di vivere, lavorare e coniugare molti più progetti, vorrei che lo stesso fosse per la gente, padri, madri, uomini e donne che comunicano in modo nuovo e costruiscono con più libertà. Siamo già a buon punto, bisogna lavorare ancora? No, bisogna lavorare perché l'Italia è antica ancora, ci sono molti luoghi in cui questo si comincia a discutere, e pochi che lo applicano, ma nelle mie aziende succede e la gente ha voglia di venire a lavorare con noi per questo, perché non misuriamo le ore trascorse in azienda come unico parametro di produttività, per esempio.